vai ciao ragazzi qui c'è il suo gamer 89 qui c'è un nuovo pochino del pacco di hl per cui c'è delle dvn thumbnail vai vai quale schizzo? abbiamo il pacco oh yeah epico epico non è uno scherzo di blur non è stata buona non mi sono fatto buona doccia stamattina quindi non mi puzza niente oggi non posso mettermi la cuccia perchè me la faccio udile no 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 dai raga giochiamo facciamo i 720 blur ora 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 720 facciamo i 720 dai andiamo eh no il controller da 360 devi prendere andiamo snorchiamo ci 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 non ci 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 Socio di socio di socio di socio di socio di socio di fai Penzi se ti sbattia qua si è aperto qui Oh Dio Spotify Come sai hai detto Dio Spotify Oddio lo sai che mi sembri da lontano D'ambe ma che sono il ciccio e no b a parte ma ti sembri la sorella di fammi vedere per sapere se io fembro non c'è problema mi stai dando da una femmina no è lei che sembra un maschio è diversa la cosa ah è lei